Eutanasia da oggi è legale in Olanda, il primo paese al mondo che l'autorizza per i malati terminali. 1 aprile 2002. I vincoli che regolano l'applicazione della norma approvata il 10 aprile del 2001 dal Senato olandese con 46 voti a favore e 28 contrari sono molto rigidi. L'eutanasia verrà concessa solo ai cittadini olandesi a fronte di una richiesta spontanea, ben ponderata e permanente da parte del paziente, dopo che almeno due medici abbiano accertato che la persona che l'ha richiesta sia afflitta da sofferenze insopportabili, causate da una malattia diagnosticata clinicamente. La legge, contrastata dai conservatori cristiani ma fortemente voluta dai democratici, nasce dall'esperienza pratica. D'ormai 20 anni in Olanda si pratica l'eutanasia. Nel 1999 i casi accertati furono 2.216, ma secondo fonti non confermate ogni anno ve ne sarebbero addirittura il doppio.